L'assessorato alla cultura del comune di Bastia Umbra ha presentato il cartellone delle attività culturali estive, come ormai tradizione la buona musica protagonista principale delle serate Bastione. Quest'anno il taglio degli eventi musicali è decisamente internazionale e qualificato e presenta alcuni ospiti importanti, icone internazionali del jazz, del pop e della classica. Tra gli eventi in programma c'è la festa europea della musica che sarà celebrata a Bastia in due date presso il chiostro del monastero benedettino di Sant'Anna, il 21 giugno e il 30 giugno. Il 18 luglio farà tappa a Bastia la maratona concertistica, una bacchetta per la pace, musicisti da tutto il mondo in nome della pace. Il concerto sarà presentato alla Rocca Baglionesca. Poi sarà la volta di Acoustic Rock Festival, rassegna di sola musica acustica alla sua terza edizione che prenderà il via giovedì 27 luglio per proseguire tutti i giovedì secondo il format delle scorse edizioni fino a fine agosto. Le cinque date di spessore artistico eccellente presenteranno i giovani talenti umbri ed artisti di fama internazionale, vero onore per il palco della Rocca Baglionesca.